E vabbè anche voi più qua, se no non ci state tutti. Tu non avrai un futuro da operatore. Vai, ok. Non so che ti prenda qualche produzione hard rumena. Allora, un saluto da Fish a tutti i ragazzi di Radio Bocconi. Ascoltatela che merita veramente. Compliate il disco di Fish quando esce. No, ma che disco di Fish? Il disco di Fish non uscirà mai. Esce mai. Come quello di Dottor Dre. Mando avanti, no. Io rinnovo la mia carriera così, no. Fra vent'anni sono ancora qua. Loro anziani, loro in carrozzella, loro in carrozzella, lui senza denti, con la parrucchia, no. Disegnere i cuffie. Sì, almeno. Va bene, ragazzi. Radio Bocconi, bello. Grazie. Però non stava registrando.